Il mio saluto caloroso e affettuoso e il mio grazie a tutto il mondo femminile qui presente per chiedere il rispetto per la dignità della donna. Io sono Suor Eugenia Bonetti, sono una missionaria della Consolata, vissuta in Africa per 24 anni e dal 1993 impegnata in un centro di Caritas di Torino dove ho conosciuto il mondo della notte e della strada e dove ho incontrato il colpo, le storie, le sofferenze, la disperazione e la schiavitù di tante donne portate in Italia con il miraggio di una vita comportevole per trovarsi poi nelle marche della criminalità organizzata. Dal 2000 lavoro a Roma